nelle olimpiadi non si arriva senza allenamento e idem anche per la nostra anima noi dobbiamo tutto l'anno a allenare la nostra anima essere pronti spiritualmente ma specialmente in quest'ultimo mese abbiamo questo slancio speciale perché i giorni in sé sono giorni speciali sono giorni di rachamim di misericordia sono giorni di hashem perdona e ci aiuta a tornare a lui e c'è questa storia molto molto particolare molto semplice ma molto profonda e vedremo se riesco a spiegarla nel migliore dei modi datemi un attimo di attenzione particolare perché è una storia particolare il Bal Shem Tov il grande Bal Shem Tov il fondatore del chassidismo un grande tzaddik del passato lui quando pregava pregava molto a lungo pregava con tanta concentrazione e lui quando pregava arrivavano le sue preghiere arrivavano in cielo lui vedeva da un posto all'altro del mondo era un tzaddik proprio di un'altra generazione ecco quando ogni volta che lui pregava c'era un alcolizzato che andava sempre ad ascoltare le sue preghiere lui pregava a lungo concentrato e questo alcolizzato non se ne perdeva una ma la cosa più strana era che dopo che aveva sentito questa preghiera e i tzaddik quando pregano pregano con delle melodie con concentrazione pensano e tutto un modo speciale di come i tzaddik pregano vuol dire che ti elevano chi ascolta un tzaddik pregare il suo cuore si accende la sua anima si sveglia eppure il nostro alcolizzato ogni volta che se finiva la preghiera del balshemtov cosa faceva andava al bar e cominciava a ubriacarsi e beveva e beveva e beveva un giorno i chassidi gli allunni del balshemtov gli hanno chiesto ma noi non capiamo non ti perdi una preghiera del balshemtov sempre vicino lui ad ascoltare come lui prega ma possibile che dopo che hai finito di sentire questa preghiera anziché essere diciamo emozionato elevato anziché andare a studiare qualche pagina di Torah fare qualche mitzvah pregare magari tu stesso no cosa fai prendi questa grande elevazione la butti nell'alcolismo vai a ubriacarti ma non ti sembra una cosa fuori luogo perché usi questa grande forza spirituale per poi andare a ubriacarti e allora il nostro caro alcolizzato risponde guardate è molto semplice dice tutti noi abbiamo delle passioni un qualcosa che veramente teniamo a cuore però a volte queste passioni dopo poco si spengono anche un grande fuoco dopo dopo un po si spegne e dice la preghiera del balshemtov dice l'ubriaco è così profonda che lui riesce a toccare l'infinito lui riesce arrivare dove nessuno può arrivare e quando finalmente dopo aver ascoltato la sua preghiera che arriva all'infinito che tocca tutti i mondi tutti i cieli e io dopo subito dopo vado subito a bere a ubriacarmi ah allora sì che ho un vero piacere di riuscire a ubriacarmi perché perché l'ho fatto dopo che ho sentito una preghiera del balshemtov ecco non è semplice capire questa storia cercherò perché forse anche io non l'ho anche capita questa storia ci fa vedere come questa persona qua ha capito tutto ma in realtà non ha capito proprio niente ha capito tutto perché riesce a valorizzare la preghiera di un saddik la preghiera del balshemtov capisce che la sua preghiera è tocca all'infinito è una cosa solida che rimane ti dà sicurezza continuità ma d'altra parte lui non ha capito niente perché continua a essere schiavo delle sue dipendenze in questo caso l'alcol ecco questa storia può dare a tutti noi un insegnamento tutti noi abbiamo delle dipendenze c'è chi ha l'alcol c'è chi ha la televisione c'è chi ha whatsapp c'è chi ha facebook ognuno di noi ha qualcosa che proprio ci rende schiavi ci rende dipendenti non riusciamo più a vivere senza questa cosa qua e tutti noi siamo dipendenti da a volte da dalle cattive azioni dalle trasgressioni da non fare l'emissuto ecco questo è il punto questa persona qua che capiva così tanto l'importanza anziché usare queste preghiere come trampolino per andare a fare qualcosa di veramente buono no lui l'alcolismo ce l'aveva proprio impregnato dentro se stesso e per farlo bene addirittura andava a sentire la preghiera di un saddick questa è una cosa che veramente è difficile da capire a volte noi facciamo delle nostre dipendenze del nostro iezerara delle nostre inclinazioni al male lo facciamo diventare una grande realtà anziché dire non hanno nessun valore le nostre dipendenze per quanto ci piacciono non hanno un vero valore il mondo farebbe tanto meglio senza queste difficoltà che noi abbiamo queste dipendenze che noi abbiamo anziché dire mi connetto con Hashem esco dalle mie dipendenze uso l'anima che Hashem mi ha dato questa anima così divina per connettermi col vero infinito come la preghiera del bacento cosa facciamo noi ci connettiamo sempre di più con queste cose che sono alla fine sono fumo perché svaniscono perché non hanno nessun tipo di durata né temporale né di efficacia né di niente ecco questo probabilmente è quello che l'insegnamento ha così antico una storia una vecchia storia chassidica che lui anziché buttarsi e migliorare la sua la sua vita e non continuare a bere e a perdere il suo tempo a ubriacarsi anziché usare la sua anima divina lui ha fatto della sua vita una ragione di vita quello di bere perciò addirittura quando va a bere vuole farlo nei migliori dei modi ascoltando la preghiera di un saddico non facciamo lo sbaglio di questa persona che fa ragione della sua vita un qualcosa di storto un qualcosa di negativo perché ubriacarsi certo è bello fare un nechaimo ogni tanto ma uno che tutti i giorni purtroppo al vizio del bere ed è alcolizzato così come le altre dipendenze questa purtroppo è una cosa negativa noi a volte diciamo eh ma io sono così ormai fa parte di me non posso vivere senza questo questo a quest'altro ognuno con le sue mancanze viene questa storia ti dice no non auto ingannarti a pensare che che non puoi farne a meno puoi farne a meno basta che ti colleghi con l'infinito con hashem e lui ti aiuterà grazie all'anima che tu hai ti aiuterà ti porterà ti trascinerà a livelli più alti ma sei tu siamo noi che dobbiamo decidere in che strada andare e proprio in questo mese di elù dove noi possiamo ribaltare tutte le nostre sorti più che mai questa storia vale perché perché dobbiamo avere coraggio di dire non fa per me non sono io non è la mia vera essenza perché io devo fare un qualcosa che in realtà non mi rappresenta e io non mi non mi devo neanche sentire vicino a questa cosa elù viene ci apre gli occhi e proprio in questo elù che noi suoniamo per 40 giorni il shofar ci deve risvegliare l'anima per dire basta basta lascia l'alcolismo lascia le dipendenze lascia tutte quelle cose che ti allontanano dalla realtà dei fatti della verità più assoluta che hashem torna a casa hashem perché hashem in questo momento è lì vi ricordatevi spiegato a melech basade il mele il re si trova nei campi vuole che tutti torniamo da lui ed in questo momento qua per altri ancora 30 passagioni fino a chippur hashem è vicino a noi e ci dice vi tendo le braccia vi apro le braccia venite chiunque vuole venire io sono qua sono vostro padre vi sto aspettando non vergognatevi non abbiate paura qualsiasi cosa abbiate fatto io vi amo e vi voglio aiutare a tornare alla vostra vera essenza e quando torneremo tutti alla nostra vera essenza riusciremo veramente a connetterci con hashem c'è un'altra storia che volevo raccontare questa volta non è una storia chassidica ma è una storia che ha raccontato tantissimi anni fa il capo rabbino israele dall'epoca rav ovadia iosef chi lo conosce sa che era un genio della torà capo rabbino se faradita e lui racconta questa storia qua un aneddoto e dice così c'erano due paesi che erano sempre molto amici i due re andavano d'accordo tutto a posto c'erano le frontiere erano aperte avevano commercio vendevano compravano tutto andava bene c'era soltanto però un cimitero unico per tutte le due città per tutti i due paesi perciò se moriva da un altro paese dal paese accanto andavano a seppellirlo nell'altro paese un giorno succede che i due re litigano e di conseguenza i due paesi non sono più amici come prima le frontiere si bloccano niente può passare la frontiera niente può entrare niente può uscire niente più commercio niente litigio guerra visto che il cimitero era unico l'humanitas o la un sono riusciti a metterli d'accordo che almeno diano il permesso soltanto di fare un funerale che dieci persone possono venire dall'altro paese a seppellire il morto tornare indietro almeno questo per umanità e così era però loro hanno pensato è questo potrà essere un modo di fare contrabbando facevano organizzavano a volte delle finte funerali nella cassa da morto mettevano oro argento diamanti quello che era tabacco quello che volevano vendere passavano la frontiera dieci persone andavano facevano finta di seppellire però poi andavano nel mercato nero e vendevano e così tutti si arricchivano sempre di più un giorno durante una di queste finte cerimonie dei funerali la guardia la guardia di finanza chiamiamola così si accorge che sono tutti indifferenti nessuno che piange nessuno che urla né una lacrima niente lì viene il dubbio dice apritemi la cassa quando lui dice apritemi la cassa voglio controllare quello che c'è dentro non mi fido di voi tutti cominciano a piangere allora la guardia dice ah vedete se voi aveste pianto prima non avete bisogno di piangere adesso dovete piangere così non non mi svegliavate non mi non mi curiosite se piangevate non piangevate adesso cosa vuol dire questo il punto è che se una persona tutto l'anno si dà da fare tutto l'anno piange nel senso fatica fa quello che devi fare le mitzvoti su studio e questo e quest'altro allora se piangi prima non hai bisogno di piangere dopo che dio viene ti dice ah ti manca questo e quest'altro nella vita bisogna darsi da fare tutto l'anno però però nonostante che è giusto darsi da fare tutto l'anno e non soltanto arrivare a piangere a rosso non ci ho pensato ma a sceme così misericordioso con noi che anche se noi ci svegliamo soltanto gli ultimi giorni gli ultimi momenti l'ultimo mese gli ultimi 40 giorni dell'anno l'anno è fatto da 365 giorni se noi in questi ultimi 40 giorni cominciamo a darci da fare e riprenderci la nostra vita in mano perché riusciamo a farlo allora dice nonostante che tutto l'anno magari abbiamo un po dimenticato le cose giuste da fare ma come ogni cosa anche all'ultimo istante tutto si può ribaltare e veramente è questo che dobbiamo fare dobbiamo promettere a noi stessi che quest'anno che arriva 5782 sia all'anno mai esistito un anno così buono così pieno di benedizioni per tutti noi quando una persona è morta tra l'altro nei campi vuol dire lontano dalla città dove c'è la tempio la sinagoga lo studio quando qualcuno muore spiritualmente no spiritualmente parlando adesso quando c'è un qualcuno che si è allontanato dalla dalla torà dalla verità non possiamo dire te la sei cercata a fare i tuoi tu hai voluto scegliere questa vita hai voluto essere dipendente delle tue dipendenze no dice la torà non puoi assolutamente fare questo questo discorso perché perché siamo tutti responsabili l'uno dell'altro e nessuno può dire hai sbagliato a fare i tuoi quando noi vediamo che qualcuno sta sbagliando sta andando nella direzione sbagliata dobbiamo preoccuparci per lui proprio adesso che siamo e lui non dobbiamo dire io sono a posto io la mia vita la conduco bene no una persona che è timorosa di hashem che segue la parola hashem deve in tutte le situazioni preoccuparsi anche del prossimo quando vediamo che un prossimo sta sbagliando o poco o tanto ricordiamoci che noi siamo responsabili perché lui non vede il pericolo perché quando sei dentro qualcosa non riesce a vedere il pericolo perché sei troppo impregnato ormai quella cosa lì e magari anche se lo vedi non riesci a uscirne e hai bisogno di qualcuno che venga ad aiutarti perché come dice Talmud una persona che è ammanettata che è legata non sempre riesce a slegarsi da sola ha bisogno di un'altra persona esteriore che venga a slegarlo perciò questo è il punto quando vediamo qualcuno che è impregnato in qualcosa e questo qualcosa lo sta trascinando come le sabbie immobili non possiamo alzare le mani dire non mi avvicino a far tuo no la prima cosa che una persona timorosa di dio deve fare è pensare al prossimo quando noi ci adoperiamo per aiutare che il prossimo abbia una vita dignitosa una vita spiritualmente migliore allora hashem aiuterà anche noi dobbiamo cominciare a vedere che nessuno sbagli che nessuno esca dalla strada giusta a cominciare da noi stessi e poi una volta che ci siamo rafforzati dobbiamo preoccuparci anche degli altri questa sera lezione era breve era molto semplice però piuttosto di non farla l'internet ha funzionato grazie a dio non dobbiamo non abbiamo dovuto penare per per difficoltà possa hashem veramente aiutare tutti tutti noi ad entrare in introspezioni in questi giorni speciali ricordiamoci quando il re finite le feste quando il re torna a casa sua nel suo palazzo reale quando hashem torna a casa sarà poi più difficile andare da lui e cercarlo e frate shuvà cerchiamolo adesso adesso che lui è con noi è vicino a noi e lui è propenso anche a aiutarci e a perdonarci carpe diem più che mai adesso il momento giusto per prendere la nostra vita in mano shabbat shalom a tutti e bezratashem che potremo presto presto rincontrarci con hashem come nei campi insieme a mashiach sit kenya a suonare il vero vero shofar amen kenya iratzon shabbat shalom a tutti e quindi